L'onorevole Zetta ha chiesto di intervenire, ha lei la parola. Sì, la ringrazio Presidente. Allora, vede Presidente e Sottosegretario, se posso Presidente avere l'attenzione del Sottosegretario? Io resto assolutamente stupito del parere contrario e vorrei che il Sottosegretario lo motivasse ulteriormente. Perché vede, Presidente, tutte le parti politiche qui oggi rappresentate mediaticamente dicono una cosa. Dicono che se gli animali, esseri senzienti, vengono maltrattati ci deve essere un inasprimento delle pene. Mi rivolgo, ad esempio, anche ai colleghi della Lega, rispetto al fatto che qualche settimana fa, comunque, anche il leader della Lega, Matteo Salvini, si è espresso sotto questo punto di vista. Ovvero, chi maltratta gli animali deve essere punito più severamente. Lo dice il Trattato di Lisbona all'articolo 13, tanto per essere chiari. E mi trovo stupito, dentro a quest'Aula, considerato che il Sottosegretario Movimento 5 Stelle alla Giustizia mi dà parere contrario oggi. E lo diciamo e lo diremo a tutti. Che a questo punto, almeno un partito del Governo, che fa parte di questo esecutivo, ovvero il Movimento 5 Stelle, per voce del suo Sottosegretario, va nelle piazze con gli animalisti a dire qualcosa. E qui, in aula, su di un ordine del giorno, dice esattamente il contrario. Allora, questa roba qui, colleghi, è scandalosa. Scandalosa perché sui giornali, sulle televisioni, sui media, tutti ci facciamo, voglio dire, un gran parlare addosso, rispetto a quello che dovrebbe essere il benessere animale, che guarda caso. Ampli studi scientifici hanno dimostrato che più si maltrattano gli animali, più gli animali sono portatori e veicolo di virus. Oltre il 75% degli animali maltrattati, chiusi in gabbie molto strette, allevamenti intensivi, ebbene, possono sviluppare e contagiare noi esseri umani con i virus. Tant'è vero che in periodo di pandemia, oramai la comunità scientifica, è abbastanza, voglio dire, uniforme rispetto al pensiero che anche il coronavirus, molto probabilmente, si è sviluppato proprio per mancanza di tutela rispetto al benessere animale. Perché è altrettanto chiaro, e diciamolo molto serenamente, che se i famosi mercati all'aperto asiatici risiedessero, ad esempio, in Italia o in Germania, molto probabilmente gli stessi NAS li chiuderebbero nel giro di 22 secondi. Però ancora oggi, e politicamente, qualcuno qui dentro si fa bello rispetto al fatto che dice, e dice soltanto, che il benessere animale deve essere aumentato. Mentre sull'ordine del giorno, che chiede semplicemente l'inasprimento delle pene in termini di indicazione all'esecutivo da codice penale, nessuno fa nulla, nemmeno sull'ordine del giorno. Allora dobbiamo, vede il Presidente e il Sottosegretario, essere chiari. Io non lo so chi abbia dato un parere negativo e così forte rispetto a questo ordine del giorno. Però le persone che non assicurano il benessere animale, che fanno del male, fondamentalmente, gratuito a questo punto, ad esseri senzienti, allora noi dobbiamo metterci nomi e cognomi rispetto a chi non vota questo ordine del giorno oggi in aula. Perché vede il Sottosegretario con tutto rispetto così non funziona. Non funziona. Non funziona rispetto al fatto che lo rinnovo, politicamente e mediaticamente, e soltanto mediaticamente, alcune parti politiche, mi meraviglio, del Partito Democratico. Molti esponenti dello stesso Partito Democratico, ad esempio, ci sono espressi a favore di un inesperimento delle pene, ma quando siamo alla prova dei fatti abbiamo un esecutivo che per l'ennesima volta su di una norma di buonsenso come questa, e colleghi qui non serve essere animalisti o non essere animalisti, serve semplicemente utilizzare il buonsenso, perché sulle scelte, voglio dire di ognuno, noi non andiamo a sindacare, ma, Sottosegretario, dovremmo anche capire che alcune scelte di oggi potrebbero portare dei benefici anche in termini economici rispetto alla sanità dei prossimi anni. Ecco che qui si dà un parere, neanche una riformulazione, che io comunque non avrei accettato, ma si dà un parere negativo, ab origine, rispetto ad una norma che soltanto Fratelli d'Italia ha il coraggio di portare qui in aula. E quindi, Presidente, noi oggi vedremo, chiudo ringraziandola, vedremo chi a questo punto, fattivamente rispetto alle norme, voglio dire, si gioca la sua partita politica su di un tema molto dibattuto, però, Sottosegretario, è assolutamente indegno che una maggioranza di questo tipo, che scende nelle piazze a dire qualcosa, ma qui in aula fa esattamente il contrario, non voti questo ordine del giorno. Per quanto mi riguarda, è una vergogna, e lo mettiamo al voto. La ringrazio. Grazie, onorevole Rizzetto. Quindi, pongo in votazione...